E' morto ieri sera il consigliere regionale del nuovo centrodestra Antonio Camporeale, docente di fisica a Molfetta e uomo di fiducia del senatore Antonio Azzollini, col quale ha condiviso tutta la militanza politica dal PC fino a Forza Italia al nuovo centrodestra. Grande il cordoglio nel mondo della politica. Interpretando con sincera commozione i sentimenti dell'intero consiglio regionale e con personale fraterna vicinanza, esprimo, ha detto in una nota ufficiale il presidente del consiglio regionale Onofre in trona, la commossa vicinanza dell'assemblea e mi unisco al dolore della famiglia con sentimenti di umana e sentita partecipazione. Camporeale è stato coordinatore cittadino di Forza Italia del Popolo e la Libertà a Molfetta e componente del coordinamento regionale degli Azzurri. Eletto nel 2010 consigliere regionale nella circoscrizione di Bari nella lista del Popolo e la Libertà, era la prima esperienza in consiglio regionale. Dopo l'ascissione dal PDL ha aderito successivamente al nuovo centrodestra di cui era diventato presidente del gruppo consigliare. Camporeale era ammalato da tempo ed era stato già ricoverato nelle scorse settimane al Policlinico di Bari. Camporeale sarebbe stato l'uomo di Azzollini ancora una volta come candidato al consiglio regionale alle prossime elezioni del 2015.